I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, 4 cinesi in carcere, 1 italiana e domiciliari ritenute responsabili a vario titolo del reato di induzione e sfruttamento della prostituzione. Le indagini sono state avviate nel settembre 2014 quando i militari tramite notizie carpite da siti di annunci online sono venuti a conoscenza che all'interno di un centro massaggi situato a Cecchina di Albano Laziale veniva effettuata attività di meretricio. In particolare le attività di indagine che sono andate avanti per circa 9 mesi hanno consentito di accertare che le massaggiatrici tutte orientali di età compresa tra i 20 e i 35 anni a richiesta erano solite concludere il massaggio con prestazioni di carattere sessuale per cui i clienti dovevano pagare un compenso aggiuntivo al prezzo del massaggio che variava dai 50 ai 100 euro. L'attività illecita all'interno del centro massaggi che è stato sottoposto a sequestro era gestita da una famiglia di cinesi e da una 36enne romana che con la qualifica di estetista serviva quale prestanome. Il collaudato sistema di sfruttamento della prostituzione scoperto dai carabinieri vedeva quali vittime giovani donne cinesi e quali clienti numerosi uomini del posto di qualunque età. Grazie a tutti.